vai mi dà il scegliamento due e mezzo vado a vedere meglio mezzo ok 5 mili vai altra 2 e mezzo 2 e mezzo e il petto come set 2 vado al menu sono allenamento nuovo allenamento distanza singola un chilometro ci siamo vado a farci aiutti a fare questo tasso 9 8 7 6 5 4 3 2 1 vai 1 2 1 2 2 3 4 5 5 6 6 8 8 13 15 15 6 16 16 20 21 22 21 22 23 21 21 22 22 23 23 23 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Un minuto. 50 secondi. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. 50. 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 Quattro, 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 sei, sette, otto, quattro, quattro, su��고, seu serireiro, tr coupling ar buyico okhato. Quattro, quattro, tu mãades, su quiete, vi-so. Quattro, 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 quattro d'un refasto, quattro, vizide, su quattro, quattro, frivide, su hole. T pactro, quattro, quattro, quattro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.